Il turismo made in Puglia segue la rotta delle crociere. La regione ha stanziato 400.000 euro in via sperimentale per la promozione marittima e croceristica. E' online infatti il nuovo avviso pubblico dell'Agenzia regionale per il turismo Puglia Promozione per l'acquisizione di nuovi servizi di comunicazione del marchio Puglia nell'ambito del turismo marittimo. A spiegare la finalità dell'avviso è l'assessore al turismo Gianfranco Lopane. La letteratura, dichiarato, ci dice che sei croceristi su dieci confermano di voler tornare nella città dove approdano con ricadute importanti nell'economia dei territori. Il 2022 ha infatti a più riprese premiato la Puglia delle crociere. Ultimo tre riconoscimenti il premio di destinazione croceristica dell'anno ottenuto dalla città di Taranto dal Sea Trade Cruise Award 2022, il più prestigioso riconoscimento del settore croceristico in Europa. Tuttavia, secondo i dati raccolti dall'osservatorio Puglia Promozione, il 90% dei turisti arrivati in regione tramite crociere non ha mai visto prima i territori. Con questo avviso, ha concluso Lopane, le crociere e la nautica diventano per la destinazione Puglia una vetrina, un'occasione di visibilità e di incentivazione per i viaggiatori a ripetere l'esperienza per più giorni e a tornare nei nostri territori.